Il presidente di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, leader della lista di centro-destra Noi Moderati, è arrivato oggi a Pescara per lanciare i candidati alle prossime elezioni. Presenti anche i coordinatori regionali abruzzesi delle quattro forze che compongono la lista di centro-destra Noi Moderati, ossia Noi con l'Italia, Unione di Centro, Italia al Centro e Coraggio Italia. Siamo l'unica coalizione con un programma comune e che sta insieme da 30 anni, ha detto Lupi, restituendo all'amittente le accuse di litigiosità arrivate dal centro-sinistra. Abbiamo sottoscritto, contrariamente agli altri, io, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, un programma in comune. Quel programma è il nostro patto per governare l'Italia. E per quanto riguarda Noi Moderati, le priorità sono quelli della scuola, il pilastro su cui investire, della famiglia e della natalità, e quello del lavoro e dei giovani. Su questo ci vogliamo confrontare e chiediamo anche in questi due giorni di campagna elettorale alla sinistra di smetterla con la descrizione del mostro, del male assoluto, che se vince il centro-destra e la Meloni guida il governo ci sarà la catastrofe in Italia. Chiediamo forza agli elettori proprio per far pesare di più nel governo di centro-destra dal 26 settembre i Moderati in Italia. Cosa vi aspettate dall'Abruzzo? Ma noi ci aspettiamo un ottimo risultato, un grande risultato. In questa terra abbiamo le nostre radici, anche il sottoscritto è abruzzese. E l'Abruzzo deve tornare, con la presenza Marsiglio sta lavorando su questo, ad essere una delle regioni di eccellenza del nostro paese. Ed è terra di moderati, ed è terra di persone che non aspettano che altri risolvano i problemi, non si piangono addosso, si rimboccano le maniche e vogliono essere protagonisti con il cuore, la testa e la forza delle proprie gambe e braccia. Ed è questa l'idea dei moderati. I moderati sono questo pilastro fondamentale della politica italiana.